Più volte, sotto gli occhi di residenti e commercianti di Via Romana ad Arezzo, si è palesato questo scenario, senza, peraltro, precipitazioni piovose particolarmente importanti. Dopo un primo intervento, l'amministrazione comunale ha incontrato residenti e commercianti per la presentazione dei lavori che dovranno appunto mitigare il rischio idrogeologico. Si tratta del secondo lotto per l'adeguamento del sistema fognario, che partiranno entro il mese di aprile. La nuova condotta si svilupperà a lungo Via Romana dall'incrocio con Via Ugo Foscolo fino al centro di aggregazione sociale di San Marco la Sella, attraversando Via Dante, andrà a recapitare le acque del torrente Sellina. È prevista di fronte al centro di aggregazione sociale la realizzazione di una camera di spinta necessaria all'esecuzione di due tratti di microtunneling di circa 100 metri. Per questo lavoro si prevede l'ingombro dell'intera carreggiata. Nei tratti invece da realizzare con scavi a cielo aperto, lungo Via Romana fino all'incrocio con largo Pontalto, la fascia di scavo sarà contenuta nella corsia in uscita dalla città, ma la strada sarà comunque chiusa al traffico. L'importo totale dei lavori è di un impegno di circa 1.300.000 euro. I commercianti hanno chiesto di contenere per quanto possibile i disagi legati al cantiere. Da parte dell'amministrazione c'è stata la piena disponibilità ad un approfondimento e ad una previsione di un incontro con le categorie economiche dopo Pasqua.